In qualità di portavoce dell'NPA, ci vuole spiegare cosa è successo l'altra sera? Abbiamo visto una vostra delegazione che andava a parlamentare con le forze dell'ordine presenti al cantiere a Chiomonte. Sì, l'altra sera, nella ricorrenza del 14, per i quattro ragazzi che stanno tuttora in galera, la cosa interessante è che per intavolare questo discorso il nostro valido rappresentante si era presentato con una bandiera bianca sopra un pezzo di bastone e la bandiera bianca ha funzionato perché quelli sono venuti subito a confabulare, sono venuti subito indietro. La manetta che già da prima l'avevano lì e non riuscivano tanto a smanettarla l'hanno chiusa e si sono messi a fare questa trattativa come se fosse seria. E quelli che stavano dietro, uno degli altri, perché poi in definitiva lui è andato da solo ma ce n'erano altri due, stavano ad assistere e si sbaricavano dalle risa. Uno dei due non si va a credere, ma è possibile che questi non capiscano che non è da prendere sul serio questa cosa? Invece no, i poliziotti ci hanno creduto fino in fondo. Insomma i ragazzi non li sopportano? Eh no, i ragazzi non li sopportano. Non c'è niente da fare, come vedono? Sparare a vista? Sparare a vista perché quelli sono cattivi, sono i black block, sono il lato, come lo chiamano? Il lato cattivo del movimento notario. Anche voi, siete andati a parlamentare senza neanche un pintone, come potevate aspettarvi che poi vi avrebbero dato qualche cosa? Eh beh, questo è stato purtroppo un tragico errore, ma d'altra parte in quel momento non c'era una fornitura adeguata, perché il bimboleggia tutto era finito e i bottiglioni erano tutti vuoti, sai i bottiglioni soffrono molto molto l'asciutto. E allora non quel momento, e sicuramente però sarebbe stata una cosa molto positiva perché avrebbe anche solo la vista del bottiglione, poteva indurre a più miti ragionamenti, più miti consigli, magari chissà, magari cedevano, magari si arrendevano. Insomma alla fine è una prima prova, magari ce ne saranno altre. Sì, sì, ma sicuramente, l'esperienza non bisogna mai sottovalutarla, è una cosa molto molto importante l'esperienza. La prossima volta magari ci presenteremo con un bottiglione, se non basta uno magari anche due. Anche due acciughe. Beh, adesso non esageriamo, perché sprecare le perle. Anche due acciughe. Anche due acciughe. Anche due acciughe. Anche due acciughe. Anche due acciughe.